6 maggio 2017 sono 10 e 30 ecco questa è via salviati un'immensa colonna di fumo raggi poi chiudiamo le finestre ecco qua le fiamme è iniziato il weekend le prossime ammazzate dovrebbero bruciare i copertoni dentro al campitoio schifosi raggi rispetto ai cittadini dimettiti vai via incapace incompetente schiava del tuo padrone sozzoni è il quarto municipio tace al quinto non ne frega niente fate un altro po' di tavoli va così diamo fuoco pure a quelli eppure questa è inventata cara assessore all'ambiente non ce la data che fa cestina pure sto filmato buffoni grazie 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 grazie